Buon pomeriggio, ben trovati in diretta dagli studi di Telebari. Da oggi la Puglia, nuovamente zona gialla, vediamo cosa cambia in questo servizio. Dopo il weekend arancione la Puglia, nuovamente gialla, si ripopolano bar, ristoranti e pasticcerie. Via libera la consumazione al banco e ai tavoli per un massimo di 4 persone. Dalle 18 consentito soltanto l'asporto, consegna a domicilio sì, ma nel rispetto delle norme sul confezionamento. Allentamento delle misure anche sugli spostamenti. Fermo restando il divieto di spostarsi tra regioni e province autonome fino al 15 gennaio. non è necessario motivare i propri spostamenti dalle 5 alle 22, orario in cui vige ancora il coprifuoco. Regolarmente aperti i negozi, parrucchieri e centri estetici nel rispetto delle distanze di almeno un metro. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali. Ancora chiusi invece piscine, palestre, teatri e cinema. Una novità potrebbe arrivare per i musei che nelle regioni gialle potranno riaprire le porte al pubblico. Per questo bisognerà aspettare l'ok del governo. Sospese le attività in sale giochi, sale scommesse bingo. Ridotto fino al 50% il trasporto pubblico. Eccezione fatta per quello scolastico. Soltanto dal prossimo lunedì 16 gennaio si ricomincia in presenza il 50% nelle scuole superiori dove l'organizzazione interna sarà comunque affidata all'autonomia degli istituti. E restiamo in tema con il bilancio dei controlli anti-covid in città. Lo facciamo con Tiziano Tridente dalla nostra postazione social. Sì, eccoci Cristina. Buon pomeriggio. Parliamo di controlli anti-covid nell'area metropolitana di Bari con i dati forniti dalla Prefettura relativi al nuovo anno. Bene, nei primi 10 giorni di gennaio nel Barese sono state controllate 30.835 persone, 473 sono state quelle multate, contestate, violazione delle norme sull'uso della mascherina, sul distanziamento e sugli assembramenti, sullo spostamento ingiustificato tra città e sul copripuoco. Sono state controllate anche 897 attività, 11 quelle in cui sono state riscontrate irregolarità. C'è anche il primo valese positivo al Covid, ad aver violato la quarantena del 2021 ed è stato denunciato tre giorni fa, l'8 gennaio. Ieri poi a Bari, nel quartiere Libertà, è stato affettuato un blitz in un bar dove era in atto una vera e propria festa. All'arrivo degli equipaggi, dicono dalla questura, circa un centinaio, pensate, di extracomunitari, si sono andati a precipitosa fuga, riuscendo a far perdere le loro tracce. Per le vie limitrofe, sanzione amministrativa per i gestori, due cittadini nigeriani di 52 e 32 anni, entrambi pregiudicati ma regolari sul territorio nazionale, 5 giorni di chiusura invece per il locale. Grazie Tiziano, intanto proseguono le vaccinazioni anti-Covid. Dopo le polemiche sollevate dal presidente della campagna De Luca, dal commissario Arcuri, arrivano invece rassicurazioni sulla distribuzione delle dosi al sud. Sentiamo. Le nuove confezioni del vaccino anti-Covid sono in arrivo nelle prossime ore. 27 box per circa 30.000 dosi che si andranno ad aggiungere alle 48.280 già portate in Puglia. La seconda tranche del prodotto della Pfizer sarà distribuita in Italia questa settimana. Non ho dubbi sul fatto che il modello distributivo della casa farmaceutica funzioni, ha fatto sapere il commissario straordinario per l'emergenza Arcuri, dopo che il presidente della campagna, Vincenzo De Luca, aveva lanciato l'allarme sull'esaurimento delle dosi consegnate. Qui in Puglia siamo vicini all'inoculazione di tutte le dosi arrivate nei giorni scorsi. Il dato aggiornato a domenica sera era di 36.383, il 75,4% di quelle ricevute, leggermente al di sopra della media nazionale che si attestava al 70% circa, con oltre 640.000 dosi somministrate su 918.000. Il prossimo lunedì, poi, è previsto l'arrivo di un nuovo carico. Intanto, anche la medicina del territorio si propone per essere di supporto nella somministrazione delle dosi. L'intersindacale, che raccoglie CGL Medici, Simet, Smis, Nami, ha chiesto a tal fine la convocazione di un tavolo di confronto. La gestione delle vaccinazioni è compatibile con l'attività di medicina generale alla stregua di quelle anti-influenzali, scrivono i sindacati in una nota. Riteniamo che il coinvolgimento della medicina territoriale si allarma per sottoporre il maggior numero possibile di pugliesi al vaccino anti-Covid. Quasi 4.500 vaccinati nelle strutture ospedaliere con un'adesione altissima dappertutto e punte del 100% nell'ospedale di Altamura e Putignano. Sono confortanti i dati della fase 1 provenienti da ospedali e presidi post-acuse della AS di Bari. Lo riferisce la stessa azienda con un comunicato. L'obiettivo di garantire la copertura della prima dose di vaccino anti-Covid-19 agli operatori sanitari è sostanzialmente raggiunto e in tempi estremamente rapidi. E siamo al nostro live. Noi ci spostiamo adesso in Piazza della Libertà dove c'è una tavola apparecchiata con piatti, bicchieri e posate e una protesta, la protesta di un gruppo di ristoratori baresi. Ci racconta tutto Roberto Maggi in collegamento con noi. Roberto, cosa accade? Sì Cristina, hai detto bene, una tavola apparecchiata però in realtà da mangiare c'è ben poco, c'è soltanto un po' di pane perché è quello con cui sono rimasti i ristoratori. Non da servire tanto quanto più da mangiare perché poi anche i ristoratori devono mangiare però c'è ben poco da mangiare. Gianni Del Mastro che è uno dei ristoratori baresi in rappresentanza delle tante associazioni che ci sono qui oggi. Lo diciamo, non c'è un'associazione unica ma ci sono diversi rappresentanti. La scelta è simbolica ovviamente. È simbolica la scelta di Piazza della Libertà di Bari perché qui c'è l'esponente del governo che noi intendiamo coinvolgere in una interlocuzione che per noi diventa non più rinviabile ovvero la garanzia che ci siano dei ristori per noi. Abbiamo alle spalle un mese drammatico, dicembre che normalmente è servito nella nostra storia a mettere un po' di fieno in cascina per poter sopravvivere in quei mesi difficili che sappiamo perfettamente essere i primi mesi invernali. Dicembre invece gli incassi sono azzerati. Ci troviamo davanti un futuro che per noi non solo è incerto ma è addirittura drammatico. Non solo perché c'è il coinvolgimento di tantissimi nostri dipendenti che sono a casa con una cassa integrazione vorrei ribadirlo perché molti magari non lo sanno la cassa integrazione che percepiscono i rossi ragazzi e il 52% della busta paga. Assolutamente insufficiente a garantire un minimo di sopravvivenza anche a loro. Diciamo anche una cosa che quello che chiedete voi non è di riaprire a tutti i costi ma semplicemente di essere messi nelle condizioni quantomeno di andare avanti con dei ristori come diceva prima o in qualche modo con delle misure che poi vandano a coprire le vostre spese e a darvi la possibilità di avere ben più di un po' di pane da mangiare. Si dici bene, delle due l'una o fanno testo quelle che sono le documentazioni scientifiche e statistiche che dicono che la ristorazione è responsabile dei contagi con una percentuale ridicola del 3% o si fa così e conseguentemente la si smette di criminalizzare una categoria che non ha responsabilità e la si riapre facendola lavorare normalmente con le prescrizioni ma normalmente o se dobbiamo assistere a questo stilicidio quotidiano di provvedimenti che in realtà continuano a penalizzare solo noi allora c'è solamente una possibilità abbiamo bisogno di ristori adeguati perché se falliamo noi fallisce lo Stato intero perché noi siamo un pezzo fondamentale di quella fiscalità che serve allo Stato per pagare gli stipendi ai dipendenti pubblici e per garantire i servizi se crolla il nostro comparto vi assicuro sarà coinvolto tutto il paese nella nostra tragedia e tra l'altro sono attese anche ulteriori misure probabilmente più stringenti anche per l'asporto nelle prossime ore anche se questo ovviamente è da definire e lo sapremo magari anche nelle prossime edizioni nei nostri telegiornali per ora da Piazza della Libertà è tutto linea uno studio grazie Roberto grazie ai tuoi ospiti c'è stata un'altra protesta stamattina una protesta della scuola una sessantina di docenti ha partecipato alla manifestazione organizzata dal sindacato Will Scuola Puglia davanti alla sede della Regione Puglia per chiedere che la Regione riveda l'ordinanza con la quale è stata disposta la didattica digitale integrata per tutte le scuole eccetto la possibilità per le famiglie degli alunni del primo ciclo di chiedere la frequenza in presenza chiediamo al tavolo regionale una settimana di precauzione con tutti gli studenti in didattica a distanza spiega il segretario regionale Gianni Verga se c'è pericolo di contagi lo si dica con un provvedimento come hanno fatto le altre Regioni e siamo alla cronaca sono in corso accertamenti tecnici sul crollo della palazzina che ieri ha ceduto in pieno centro a Modugno sentiamo sono ancora in fase di accertamento le cause del crollo della palazzina di via Marconi a Modugno lo riferisce il sindaco del comune Nicola Bonasia che ha firmato un'ordinanza vietando la circolazione dei pedoni la circolazione e la sosta per tutti i veicoli nelle strade adiacenti l'edificio subito dopo il crollo il primo cittadino ha anche annunciato la mappatura degli immobili in stato di degrado e un piano di incentivi per ammodernare e rendere sicuro il patrimonio edilizio della cittadina il crollo è avvenuto sabato sera intorno alle 23 la palazzina era disabitata da circa 10 anni e la proprietaria è deceduta l'anno scorso subito dopo il cedimento sul posto sono intervenuti i carabinieri la polizia municipale protezione civile e vigili del fuoco impiegata anche una unità cinofila per la ricerca di persone per fortuna nessun ferito si temeva che all'interno del vecchio stabile potessero esserci senza tetto dai primi accertamenti tecnici il crollo sarebbe attribuibile a un cedimento strutturale causato dal maltempo degli ultimi giorni e dalle piogge frequenti il tetto è crollato rendendo la parte superiore del fabbricato priva di qualsiasi coronamento statico che potesse garantire la stabilità e la sicurezza dei muri perimetrali fatiscenti e pericolanti fa sapere il primo cittadino le macerie hanno colpito un'auto in sossa e danneggiato alcune tubature del gas il crollo ha anche tranciato un cavo elettrico che ha lasciato diversi edifici senza corrente per ore la situazione per i residenti delle abitazioni adiacenti la palazzina disabitata che ieri sono state fatte evacuare oggi è tornata alla normalità e adesso i servizi dell'area metropolitana con i nostri inviati di fronte alla crisi economico e sociale legata al covid l'associazione col diretti ha promosso ad altamura una iniziativa per i più bisognosi il servizio Ediziana Di Mola Anche la città di Altamura è stata coinvolta nell'iniziativa di solidarietà della col diretti la quale si pone l'obiettivo di dare un sostegno attraverso i comuni ai nuovi poveri la povertà infatti è in costante aumento per effetto della crisi economica e sociale provocata dalla pandemia e dalla conseguente perdita di opportunità di lavoro il presidente dell'associazione Vincenzo Ventura in una diretta facebook del comune di Altamura ha esplicitamente dichiarato che la col diretti è sempre stata vicina alla comunità e pertanto tali gesti sono sempre stati compiuti ma in questo periodo così delicato questa proposta è stata pensata a livello nazionale una delegazione della sezione col diretti di Altamura ha consegnato a Palazzo di Città 10 pacchi con prodotti alimentari di alta qualità e a chilometro zero frutto del lavoro degli agricoltori di Campania Amica i pacchi inoltre proprio perché simboleggiano doni d'amore dal territorio per il territorio saranno distribuiti a chi ha più bisogno dalla parrocchia di San Sabino in Contrada Fornello a 330 anni dalla manifestazione culturale e religiosa castellana vivrà questa sera una edizione limitata dalle restrizioni covid delle fanove sono le cataste di legno accese a ricordo della liberazione della peste di fine 1600 ne ha parlato il sindaco Francesco De Ruvo i dettagli nel servizio di Francesco Russo il coronavirus non fa sconti neanche sulle tradizioni come quella delle fanove a Castellana Grotte che da ben 330 anni ricorda ogni 11 gennaio la liberazione della violenta epidemia di peste che colpì sul finire del XVII secolo l'entroterra barese che i castellanesi attribuirono alla protezione della Madonna della Vetrana che veglia sulla città dal convento francescano a lei dedicato le restrizioni anti-covid-19 non lasciano spazio ad interpretazioni e l'evento di piazza non potrà tenersi così l'accensione delle tradizionali cataste di legna e di fuoco segno di purificazione dall'antico morbo sarà ridotta ad una simbolica conferma della devozione della speranza e della ripartenza di tutti noi castellanesi ha scritto il sindaco della città Francesco De Ruvo andiamo all'essenziale senza dimenticare il valore simbolico delle fanove per cui noi dopo la messa di stasera come tradizione comanda accenderemo un unico falò vicino il convento sarà il falò simbolico dell'amministrazione comunale con il comitato e con il clero diciamo locale poi saranno consentiti ovviamente i falò privati e ovviamente ognuno poi si deve assumere il rischio la responsabilità di far rispettare tutti gli accorgimenti di tutte le prescrizioni e per questa edizione del telegiornale è tutto grazie per averci seguito a tutti un buon proseguimento di giornata il meteo è offerto da Oropan amici trevi meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà un'ulteriore attenuazione del maltempo sulle regioni del medio adriatico e al sud anche se in queste zone ancora si farà sentire parecchia variabilità inoltre vi segnalo un sistema nuvoloso che si appoggia all'arco alpino ma in realtà senza raggiungere poi le regioni settentrionali e quindi controlliamo intanto la nuvolosità attesa sull'Italia diciamo che ancora un po' di variabilità sarà presente nelle regioni meridionali in parte anche sul centro Italia e poi queste nuvole che si appoggiano alle Alpi ma senza particolari conseguenze anche come precipitazioni infatti vi segnalo qualche fiocchettino di neve sulle Alpi di confine in giornata specie nella seconda parte del giorno comunque nevicate non importanti e poi un minimo di variabilità che ancora appunto insiste al sud con qualche locale piovasco quindi in definitiva ci attende un martedì nel complesso soleggiato al nord e con delle belle schiarite anche nell'Italia centrale magari qualche annuvolamento si attarderà un po' sul medio adriatico il sud invece vede ancora un po' di variabilità soprattutto le isole maggiori la Calabria la Puglia la Basilicata ma con fenomeni non particolarmente diffusi forse la Sicilia potrebbe vedere qualche pioggia un pochino più intensa temperature però bassine in tutta Italia al nord andremo sotto zero anche nelle prime ore del giorno nell'Italia centrale farà davvero freddo per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi scaricate l'app gratuita di 3B Meteo Il Meteo è offerto da Oropan Grazie a tutti